Giordano e Nilo Farra Sei mia? Nilo Farra è comparso un video in cui entrambi salutano tutti, scambiandosi effusioni e tenerezze, più che mai uniti dopo 6 mesi di emozioni, colpi di scena e qualche litigio che sembra ormai solo un lontano ricordo Uomini e donne, Throne Over, puntata 21,05 oggi, lunedì 21 maggio, Vine Onda la seconda parte del Throne Over di Uomini e Donne Video, la scorsa settimana, la puntata si è conclusa con un'accesa discussione In studio tra Sossio, Ursula, Tina Cipollari e Gianni Sperti Gli opinionisti accusano la coppia di essere d'accordo e di essere una coppia fuori dalle telecamere Per questo chiedono di poter vedere i messaggi scambiati tra i due Sossio e Ursula rifiutano 14.45 inizia una nuova puntata di Uomini e Donne, Throne Over Ursula esce dallo studio e raggiunge i camerini per prendere il telefonino dopo la Discussione con gli opinionisti per accertare che la storia con Sossio è vera I messaggi vengono fatti vedere alla redazione dietro le quinte 15.00 si ritorna a parlare di Gemma Galgani e l'intenzione di Marco di lasciare il programma di Maria De Filippi Video perché non sopporta la presenza del cavaliere Giorgio Manetti durante la loro frequentazione Adama Torinese non comprende tale decisione e reagisce male 15.15 Gianni Sperti non crede a questa nuova scenetta creata da Sossio e anche La De Filippi ora chiede che i due mostrino le loro conversazioni Al termine dell'ispezione, Gianni e Tina arrivano alla conclusione che Sossio e Ursula non sono una coppia e gli opinionisti chiedono scusa 15.45 si volta pagina con un filmato che racconta di una storia Nata in trasmissione cinque mesi fa, quella tra Nicola e Yara Oggi i due fanno il loro ingresso in studio e spiegano che le cose Tra loro vanno alla grande e che si vedono ogni fine settimana